La partita ha avuto due momenti differenti. Nei primi due set abbiamo giocato bene, negli altri due no. È stato un trionfo meritato per l'Italia perché hanno giocato con tanta tecnica. Sono giocatori a cui manca esperienza. A Cuba abbiamo campionati piccoli. Leone è un giocatore che stiamo trovando in due posizioni e dopo domani giocherà in ricezione. Penso sarà un giocatore completo.